si entra in programmi che sono solitamente programmi di approfondimento giornalistico e politico. Io non mi tiro mai indietro perché poi insomma sono un cittadino italiano e quindi se qualcuno mi fa una domanda rispondo. E può anche capitare che io dica una stupidaggine, cioè io rivendico il diritto di dire anche una stupidaggine ogni tanto perché siccome non ci abbiamo i gobbi, non ci abbiamo gobbi, non ci abbiamo auricolari con qualcuno che ci dice cosa dire, può anche capitare di esprimersi male. Io in realtà insomma, chi voleva... Perché tu hai fatto una cosa che molti italiani pensano, cioè che avendo, perché se non andati al governo, vari governi non eletti, la sensazione era che questo paese non si vota mai. Sì diciamo che l'ho detto male ma il senso era questo, solo che poi la cosa che mi ha veramente molto colpito è che tutto questo sia stato vissuto come, come dire, un atto di ignoranza. Ecco quando si fa questo si agisce in malafede. È stata messa un po' alla goglia diciamo. Per chi non sappia che si vota ogni cinque anni penso che sia un po' come una donna che non sa come si fanno i figli. Ecco, quattro figli, quindi in questo caso insomma conosco molto bene l'argomento. Quindi ieri tante testate, tanti giornali insomma hanno riportato questa cosa. Sinceramente io dico se quello spazio fosse stato utilizzato per parlare di tutte le manifestazioni di solidarietà che si fanno nel nostro paese, non parlo di 30 ore per la vita, ma di tutto quello che si fa in questo paese di buono, ecco credo che quello spazio sarebbe stato... Ma il problema è che tu continui a dire che sei sovranista. Ti continui a dire che sei sovranista. Perché? Ma ti piace la Lega? Eh ma no. Rix è contento se ti piace la Lega. Allora io dico e rivendico il fatto che sia importantissimo votare. Cioè io ho sempre, non ho mai perso un appuntamento. Credo che sia, come dire, il dono più grande che noi abbiamo. Proprio il modo di partecipare attivamente alla crescita di questo paese lo facciamo attraverso il voto e se questo voto comincia a perdere terreno e soprattutto certe decisioni vengono prese anche un po' sopra le nostre teste certo che questo un po', devo dire, destra qualche dubbio, qualche preoccupazione. Allora abbiamo chiarito. Lorella Cuccarini sa che si vota ogni cinque anni in Italia. Esattamente. L'ultima cosa, perdonami Mirta perché qui so di toccare un tema che per te è molto caro. A tutti i leoni da tastiera io vi consiglierei veramente, proprio perché sono 25 anni che mi occupo di sociale in Italia, di fare qualche servizio proprio di utilità sociale. Perché per far crescere questo paese serve ben altro che insultare sulla rete. Quello è... Mi sembra una buona idea, invece di vomitare odio sulla rete provate a fare cose che servono agli altri. Mi sembra un'ottima idea. Allora andiamo a San Ferdinand. Ah la notte vola, la notte vota. Vabbè, siamo alla collina. Guarda, non c'è niente da fare questo pezzo, dove lo metti sta. E l'altro... E l'altro...